Allora, c'è un cuoricino su quella bottiglia e c'è un consiglio di bere al massimo due bicchieri di vino. Beh, ha fatto discutere la decisione di Sandro Bottega, storico, produttore veneto, non soltanto del Prosecco Doc, patrimonio dell'umanità, ma anche di Distillati. Noi lo ricondiamo da tanti anni come grande produttore. La sua decisione è quella di far comparire sul retro delle proprie etichette un messaggio anti-accessi per la prima volta in Italia che dice vi suggeriamo un consumo massimo giornaliero di due calici. Beh, sapete la polemica che c'è stata innescata dalla professoressa Viola, dopo ci è andato dietro il mondo, è ancora molto presente quella polemica perché si allarga l'Europa, il Made in Italy, eccetera. Ma noi oggi abbiamo la possibilità di entrare nel merito della decisione di questa grande azienda che è appunto la Bottega parlando direttamente col suo presidente e fondatore, grande uomo di marketing, che è Sandro Bottega. Il nostro ospite è subito dopo la consueta sigla. Il nostro buongiorno dunque a Sandro Bottega. Non riesco a darti del lei, Sandro, perché la nostra conoscenza risale a tanti, tanti anni fa, da giornalista sempre. Comunque buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno e grazie a te Claudio. È stato un piacere rivederti. Perfetto. Senti, allora entriamo subito nel merito del tema che ho proposto. Io voglio chiederti da dove ti è venuta la idea di fare quello che hai fatto, anche se io sono tra i primi testimoni a poter dire che questo tuo modo di procedere anche sul consumo consapevole non è nuovo di adesso, ma risale a ben trent'anni fa. Ma ti lascio la parola. Esatto. Noi già nel 1991 producevamo dei piccoli cataloghini che sono ancora oggi disponibili che si intitolavano Aico l'amico, bene bene fa bene. E in questo opuscolo che era, diciamo, di un formato A3 piegato, che veniva distribuito anche nelle scuole o da dove noi lo ritenevamo opportuno o utile, c'erano gli interventi di illustri professori, medici, sociologi dell'epoca e davamo come primo, diciamo, messaggio che noi dovevamo essere degli educatori, noi produttori dovevamo essere degli educatori del bene bene, perché noi non vogliamo dei consumatori ubriati, vogliamo dei consumatori contenti. È giusto bere in maniera assolutamente corretta. Bere troppo fa male e questo lo dobbiamo dire a voce alta, perché fa male alla salute, fa male al sonno, fa male anche alla nostra capacità proprio reattiva di capire la nostra intelligenza. Bere poco invece fa bene. Quindi noi dobbiamo scindere in maniera inderogabile che gli ubriaconi non li vogliamo. Noi vogliamo produrre dei vini che siano di eccezionale qualità e che vengano degustate da degli esperti, dagli appassionati, dagli amanti che vogliono godere di questo privilegio di avere un prodotto buono. Quindi il nostro messaggio è un messaggio che è a metà strada, però noi riteniamo nella strada corretta tra quello che dice magari un fondamentalista che non vuole toccare alcol e quello che dice la Comunità Europea che lo terrorizza e quello che invece dall'altra parte viene detto magari da certi produttori che vogliono incitare al bere smisurato. Questo è quello che siamo noi, siamo sempre stati così, abbiamo sempre cercato di essere un'azienda che porta del beneficio comune. Noi vogliamo dare un messaggio che sia chiarissimo a tutti i nostri consumatori. Vogliamo produrre qualità e vogliamo che i nostri consumatori siano di qualità allo stesso modo. Senti Sandro, con questa tua dichiarazione molto esplicita e con la testimonianza, che io sono qua a rassodare, di un tuo intervento sulla consapevolezza del bere che risale a tanti anni fa, togli ogni ridò fumogeno a quello che è stato anche ventilato. È il solito Sandro Bottega, fa marketing, fa comunicazione. Ma ti aspettavi comunque tu questa reazione, non puoi non avertela aspettata. E quindi perché, a di là dell'opuscolo, questa volta vai ancora più avanti. Un messaggio sulla bottiglia. Non so peraltro se ce l'hai lì la bottiglia da far vedere questo cuoricino, ma fatela avere perché mi piacerebbe poterla mostrare. Allora, io posso mostrarla, mi serve qualche minuto. No, 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 o te la fai arrivare, noi siamo in diretta come si suol dire, no? Per cui se qualcuno... Ecco, vediamo se ce la fai. Vediamo se ce la faccio. Facciamo tutto in diretta come vedi, benissimo. Perché piacerebbe farla vedere. Ho bisogno di un'etichetta come il cuore, perché sono in diretta. Se me la puoi portare al volo, ciao. Ecco, perfetto, bravo Sandro. Allora, perché intanto ti chiedevo andare a fondo, cioè mettere proprio anche il messaggio sulla bottiglia? Perché la bottiglia è il mezzo di comunicazione più idoneo, perché nel momento in cui uno acquista la bottiglia, legge sicuramente quello che c'è scritto nell'etichetta. E quindi, prima ancora della pubblicità che a volte viene ascoltata e poi magari dimenticata, viene vista e poi dimenticata, credo che mettere nella bottiglia fosse, diciamo, il messaggio più efficace, più vero. E noi, anche se avevamo previsto che qualcuno avrebbe reagito nei modi in cui tu hai detto, ti dico, Claudio, che non credo che... non ho cambiato idea, non credo che avrei mai pensato, anche se hanno magari reagito oltre modo, oltre quello che noi avevamo previsto, io non credo che avrei cambiato idea. No, io sono convinto di quello che ho fatto e continuerò a farlo. Io credo che la missione di un'azienda debba essere anche di produrre un beneficio sociale, e quindi dobbiamo essere noi responsabili, come d'altronde lo erano le antiche accademie veneziane. Dobbiamo non dimenticare che le accademie veneziane non erano delle corporazioni per riscuotere i tributi, non erano delle corporazioni per essere un sindacato dell'industria, ma erano, prima di tutto, è arrivata anche la bottiglia. Eh, bene, così la possiamo far vedere. Sì, mi porti anche un opuscolo, ecco l'amico, che è... ah, grazie. Eccola qua, lo vediamo qui. La vediamo bene. La vedete bene, perfetto. Io, beh, scusami che no, la sto girando la parte. Sì, sì, vediamo che c'è la scritta. Ecco, perfetto. E se arriva anche l'opuscolo che testimonia come tu sei, non sei fresco di questi interventi, ma sei anziano, perché sono passati trent'anni da allora. A proposito, a proposito di questi trent'anni, tu hai ben presente che in questo momento l'Europa, Sandro, ci sta addosso abbastanza. Il Made in Italy è sottotiro, non c'è soltanto l'olio, il vino, c'è l'olio, c'è la pasta, c'è la carne. E allora capisci anche come tutto questo si innerva adesso nella carella appunto del vino. Tu come giudichi, insomma, questo momento per noi, per voi produttori? Allora, penso che tutti quanti commettano degli errori, a volte anche molto gravi, l'Europa compreso, sta commettendo dei gravissimi errori. quello che viene attaccato è in totale controtendenza con i principi della dieta mediterranea e del buonsenso. Credo che noi dobbiamo insegnare al consumatore non a non consumare certi cibi, ma a consumarli tutti con moderazione, perché una fetta di salame è un portento, è un piacere straordinario e sorridere come un buon bicchiere di vino, è importante anche questo per la nostra salute. È certo che se uno si mangia un salame intero è ovvio che sta male, però noi non dobbiamo insegnare che il salame fa male, dobbiamo insegnare che un salame intero fa male, non una fetta, una fetta fa bene. E il fatto di non proteggere le nostre denominazioni è un fatto di una gravità estrema, perché noi potremmo diventare alla merce delle multinazionali del food che hanno proposto junk food, cioè cibo spazzatura, per decine e decine di anni che hanno provocato obesità e un numero innumerevole di altre malattie cardiovascolari soprattutto, ma anche fino ad arrivare al diabete, proprio grazie al fatto che hanno presentato cibi e prodotti alimentari, comprese bevande, di bassissimo livello qualitativo, che il consumatore non era edotto e non sapeva come consumare in maniera corretta. Voglio fare un esempio. Un soft drink, uno se lo può bere, un bicchiere di un buon soft drink, anche se il zucchero non si può bere, ma se ne beve 10 al giorno diventa obeso. E quindi quello che noi dobbiamo cambiare non è terrorizzare il consumatore, ma educarlo. Ecco, questi concetti... Nel frattempo è arrivato... L'opuscoletto? Prego. Hai anche l'opuscolo? Esattamente. Eh, facciamolo vedere. Allora, l'opuscolo, che è del 1991, quando l'azienda si chiamava Distilleria Bottega, eccolo qui, eccolo qui, lo facciamo vedere, è Campagna nazionale per la prevenzione contro l'abuso alcolico e per l'educazione al breve, con il patrocino dell'Accademia dei Qualità e Bottega S.P.A. Ecco l'amico. I... I... le persone che hanno partecipato è stato il professor Severino De Pieri, ok, del Cospes, il... la dottoressa Patrizia Burra, che è gastroenter... medico gastroenterologo dell'Università di Padua, allora lo era, adesso sarà magari in pensione, Giuseppe Bonazzoli della rivista Disco Dancing, Luigi Ovello, esperto di scienze dell'alimentazione, eccoli qua, e Emanuele Russo dell'Università degli Studi di Urbino, sociologo. Quindi... Va bene, questo ha testimonianza di quello che ci ha detto, apprendo in questo momento che allora l'addizione esatta è Bottega, non Bottega, Bottega. No, è Bottega. Ah, è Bottega. È Bottega. Allora, allora, Bottega è giusto? No, Bottega è giusto. Bottega è giusto. Allora, signor Bottega, questa è una bottiglia di 30 anni fa che lei mi dette al Vinitaly di Verona quando facemmo la nostra prima intervista e già allora lei mi parlava del bere consapevole. Sono ancora testimone io e vede che c'è ancora un goccino di grappa perché allora era il distillato soprattutto patrimonio di Bottega. A proposito di patrimonio... Immagino però che sia rimasto un goccino non perché si è evaporata ma perché sia stata bevuta. Sì, certo, certo. Ma poi l'ho lasciata come cuore pulsante. Senti, Sandro, quel patrimonio di cui parlavamo è anche patrimonio dell'umanità. Allora, non ti pare che comunque una campagna che tenga conto della nostra storia e della nostra cultura dovrebbe essere accompagnata ed è quello che sto tentando di fare io con queste pubblicazioni insieme con la ripresa del fatto che l'uso consapevole del bere e del mangiare è eticamente oltre che deontologicamente e clinicamente giusto proporlo. Assolutamente sì, sono d'accordo e cerco di appoggiare tutti quelli che lo faranno. Anzi, credo che in questa trasmissione mi hai dato un'idea perché io stesso possa essere un promotore in questo senso. quindi non soltanto un educatore al bere consapevole ma anche un promotore di tutte quelle che sono le nicchie. Vedi, nella nostra azienda che si è con una fattoria noi ci produciamo il nostro miele, il nostro aceto balsamico, il nostro vino, il nostro vino spumante, la nostra grappa, il nostro gin, il nostro whisky adesso. Quindi vogliamo fare tutto quanto in piccolo in modo da garantire sempre l'eccellenza e la particolarità, l'unicità dei prodotti sono la vera ricchezza perché la biodiversità e la diversità è la vera ricchezza di questa terra. Sandro, quando ti ho fatto quella prima intervista eravamo entrambi un poco più giovani ma questa tua azienda oggi raggiunge i 155 paesi. Ho letto che sei arrivato anche in Alaska. Allora, permetti che ti faccia una domanda, faccio una domanda all'amico produttore ma tu avevi già in testa quel giorno là quando facevamo quella prima intervista in Viniteri la strada che avresti percorso Sandro? Ovviamente no, non l'avevo in testa però speravo di poter fare questo percorso nel senso che io credo che l'azienda sia un modo di esprimersi, è stato un modo di esprimermi anche per me. Ho cercato di dare il meglio e con tutta la mia passione di portare questo messaggio a tutti i consumatori la crescita è stata una conseguenza ma non è stata fondamentale quello che per me era importante era avere un lavoro che mi divertisse che mi permettesse di portare il mio messaggio al consumatore di tutto il mondo fare un prodotto buono di qualità e avere creatività nella produzione cioè inventare un nuovo prodotto prima ancora vede tante aziende dicono fanno un'analisi di mercato beh questo mercato c'è bisogno delle scarpe c'è bisogno del vino c'è bisogno dell'acqua e poi lo producono io invece no creavo un prodotto perché mi piaceva produrlo e proporlo e quindi al di là di quello non mi sono mai posto il problema lo venderò non lo venderò intanto lo faccio perché mi piace poi cercherò di venderlo e questa è stata la storia che ho portato se mi credi sulla parola ti dico che sentendo queste tue parole io rivedo nel DNA del tuo tono di voce nel sorriso negli occhi quella visione ed era lungimirante che avevi trent'anni fa durante quella prima intervista ti faccio l'ultima domanda è un complimento quello che ti ho fatto l'hai capito vero grazie grazie ascolta Sandro la curiosità di sapere le reazioni dei tuoi colleghi produttori al di là di quello che noi giornalisti raccontiamo sulla stampa in radio o televisione sul web qual è stata realmente no i produttori di qualità mi hanno appoggiato tutti quanti cioè non criticano una presa di posizione chi ha criticato ha una visione probabilmente distorta del consumo del vino forse un po' antica perché è vero sì che magari un tempo bisognava bere una bottiglia al giorno di vino perché lavoravamo nei campi avevamo bisogno di più energia e probabilmente in quel momento storico preciso probabilmente era giusto oggi no chi produce qualità vuole un consumo consapevole che possono essere anche tre bicchieri per carità se dobbiamo essere fossilizzati a due bicchieri possono essere tre possono essere quattro a seconda della corporatura a seconda del momento della giornata perché magari uno o due pasti in un pasto ne beve uno nell'altro pasto ne beve tre è una corporatura molto molto importante quindi è tutto molto relativo la mia è un'indicazione generale che viene apprezzata da tutti ti ringrazio molto ti lascio perché so che sei molto occupato ma è stato davvero un piacere averti ritrovato averci ritrovati in qualche modo ti auguro buon lavoro grazie Claudio e grazie a tutti gli ascoltatori arrivederci a presto arrivederci ciao grazie a tutti